Giochiamo a StumbleGuys su Roblox Te l'aspettavi questa? Eh, te l'aspettavi Stumble? Stumble, no strumble StumbleGuys Ah, ok, lo conosco, lo conosco, ho capito È un gioco famosissimo perché devi riuscire a completare i livelli e arrivare primo contro 60 persone O 30, non me lo ricordo Vabbè, facilissimo, facilissimo, iniziamo? Sì, sì, certo, come no? Aspetta che adesso iniziani i livelli e lo scoprirai Aspetta, ma questo è il primo livello? No, in questo momento siamo nel, diciamo, nella fase in cui dobbiamo aspettare l'inizio della prima partita, capito? Ah, ok E poi quando inizierà, beh, lo capirai, anche perché i livelli saranno molto complicati Anche se su Roblox io non lo so come sono Allora, facciamo così, inizi tu a giocare E poi quando vedo che perdi, perché tanto non sei capace, invado io Ci sto Ok Uuu, eccolo qui, il primo livello Che cosa devi fare? Eh, praticamente ci sono dei laser qui, qui Allora, io faccio una tattica, mi metto così, almeno li vedo meglio Sì Ecco, il primo ha già perso, mamma mia che ansia Uuu, ma sembra difficilissimo Lo è, Ninna, lo è Oh, mamma mia che ansia Senti, ma se io non sono capace a fare questo coso, vinco comunque la medaglia per non essere capace? Eh, vince la medaglia della nabba, della nabba Mamma mia ragazzi che ansia, che ansia No, vabbè, il livello dei laser mette un'ansia incredibile Siamo rimasti in quattro, Ninna Ma quanto dura questo livello? Eh, praticamente fino a quando non ne rimane uno solo Oh, no Sì, 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 sarà abbastanza difficile Levati! Oh, mi si era messo davanti quel falsacchietto che non è altro Oh, no, oh no Ma loro stanno attaccatissimi al filo rosso Oh, uno ha perso Ok Oh, poverino Ma che poverino, noi in acqua dobbiamo vincere Oh, uno contro uno È rimasto quello che prima Eh, ma lui è bravo Lui è pro gamer Sì, sì, è un pro player Ok Oh, si chiama Yusif, eh Sì, sì, guarda come sta Oh, no Oh, no, Matti Sei per perdere Ok, ok, non ti preoccupare Ok Non ti preoccupare, è tutto sotto controllo Guarda, guarda, lui è un pro player Dai, ma così non perderà mai nessuno Perché siamo entrambi i campioni del mondo di StumbleGuys Ma si vede da come salta che lui è bravo Sì, vabbè, ma anche io sto giocando bene per essere la prima volta Guardalo Spingilo, spingilo Eh, se sapessi Mamma mia, se ti prendo Se ti prendo Mamma mia Mamma mia Dai, vai dentro Vai dentro Niente Nina, devi usare una strategia Devi fare qualcosa Canto, canto almeno se distrai Allora tu devi perdere Lo sai Perché io devo vincere Mi stai distraendo tu così, vero, Nina Ah, scusa Oh, no Oh, no, no, no Stanno iniziando ad essere tantissimi Porca miseria Sì, è pericoloso Pericoloso Non sono niente Vabbè, vediamo cosa esce come secondo livello Uh, questa è una gara Questa è una gara Questa è una gara No, 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 no Sono partito in ritardo Ok Ma, aspetta Tuffo 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 Ok Ok, vado, eh Di cosa sei capace Mi raccomando Mi raccomando Falsacchiotti Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Perché sicuramente Nina Sta per mostrarvi Chi è la campionessa del gioco Eh Ah Ok Vai, vai, vai Parti Oh mio Dio Non ci credo Nina Sei partita in anticipo Nina Sei prima Ti devo concentrare Fai sempre tuffo Fai sempre tuffo Perché se no Vedi, vedi Se fai tuffo vai più veloce Vai, vai, vai Ok Aiuta Oh mamma mia ragazzini Ne è prima Oh no C'è uno che Ma come hanno fatto a superarti No, è impossibile Vabbè, va bene anche secondo No No Ma No Vabbè Hai fluttuato nell'aria No Vai No Oh Ti poco Eh, non ho capito Ma vince solo uno Devo farti complimenti però Perché sei arrivata seconda Devo essere sincero Non me l'aspettavo proprio Eh, sono bravissimo Secondo me questo gioco è buggato Sì, diciamo che non è proprio identico al vero stumble guys E poi scusa una cosa Come hanno fatto quelli ad apparire? Ma guarda Sembra che si siano letteralmente delle trasportati Cioè non so come hanno fatto Mmm Non lo so, non lo so Vabbè, vediamo il prossimo gioco Sono pronta Sì, io voglio vedere un nuovo livello Dai Vediamo un po' di che livello si tratta Oh no Oh no Difficilissimo questo Matti Bravissima Non me la Oh Nina sei prima Non chiedermi come Ma sei prima Vai su quello che ti fa andare più veloce Ah no Ti blocca Scherzo Non puoi andare sul rosso Perché ti blocca Sentite io Scusate se non parlo Ma mi devo concentrare Perché mi hanno appena superato Ok Vai Ma Vai È troppo facile questo gioco Vai 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 Tuocchi Tu baci Tu Hai vinto Ora, devi vincere come ho fatto io prima Va bene, ci sto Ah, è di nuovo lo stesso livello Io parto, io parto, ciao Ok, vai Usa la mia strategia, a caso Ma questo livello è difficile Ma come avevo... Ma perché io muo... No, non ci posso credere Ma perché io muoio sempre, Ninna? Ma dai, ma tu mi avevi detto che era facile come livello Ma io ho fatto tutto a caso, Matti No, sono ultimo, non è giusto Guarda, sono morto di nuovo Ma non sei capace Ma che ne so, da quando l'hai... Ecco, già perso, mamma mia, non è giusto niente a piangere adesso Vabbè, ma a Spis Piso vincere un gioco Ho capito, vincere un gioco perché è brasileiro Però non è giusto Io non ci posso fare niente Sai che ti dico? Cosa? Adesso ti faccio vedere io Cosa? Ecco cosa faccio Mi attacco una figurina di piadina in fronte Che magari mi porta fortuna, visto che sono scarso Eh, carinissima, sì Vai, vai, tocca a te, tocca a te Questo livello è nuovo Oh no, oh no Secondo me non puoi andare sul rosso No, fidati, Ninna, io sono bravissima in questo livello Sì? Sei sicuro? Fidati Vabbè, hai perso, hai perso No, non ho perso, Ninna Non ho assolutamente perso Ah, ma c'è un livello sotto, dai, è facile Sì Oh, ok No, 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 no Ninna, Ninna, sono imbattibile Sì? Ninna, sono imbattibile Sì, lo so, lo so, ti sto vedendo Ma perché sono così forte a questo gioco? Io non sarei mai stata capace No, 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 no Ok, va bene, va bene, va bene Che ansia Ci sono altri livelli, ci sono altri livelli Ma poi quanti siete? No 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 Niente, vatti, l'ultimo è l'impiano e poi hai perso Dai, non ci posso credere È l'ultimo, sì, sì Dai Mamma mia Ninna Sì? Ninna Dimmi tutto Sono in difficoltà Si, vedo Matti io sono in anzi Aiuto Fatti ne mancano Non lo so mancano 250 secondi Io ci ho provato però È stato divertente Devi essere sincera Piadina mi ha dato tanta energia Ma tu non sei stato abbastanza bravo Assolutamente no Non ho vinto Al momento sei tu la campionessa Piccola Piadina Quanto sei carina Tenitela lì che magari ti porta fortuna a te Perché io non sono riuscito a vincere Vediamo qual è il prossimo gioco Se è quello che hai fatto tu ora Io perdo di sicuro al primo o secondo No Matti ma cosa devo fare qua Questo è difficile Vai su salta lì sopra e poi passi attraverso No ok salta all'infinito Salta all'infinito fino a quando non scavalchi Il mattoncino Stai attenta Ma non capisco che senso ha questo gioco Questo gioco non ha un minimo Cioè questo gioco è letteralmente senza senso Sì anche perché Praticamente avrei già perso Perché non riesco a saltare Però ok Mamma mia Che ansia Ah se vinci anche questa Nina Diventi la campionessa indiscussa di StumbleGuys Ma io sono già la campionessa Ancora no Perché in realtà anche io ho vinto la prima partita Quindi siamo 1-1 Tra noi due sono io la campionessa Dai Vinci questo e poi ne riparliamo Oh no Iniziano ad aumentare i blocchi qua Oh no Oh no Oh no Toglietevi Ok vai Aiuto Mamma mia Ma sono tantissimi Ok Stai attenta eh Sì Siete rimasti in 4 Eh no 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 Dovete perdere ragazzi Devo vincere Vediamo se ce la fa Ok vai Bravissima Attento a non cadere di sotto È caduta è caduta Quella si è buttata di sotto Siete rimasti in 3 Sì No no ma è difficilissimo È difficilissimo Matti Attento a non cadere di sotto To E poi non cadere di sotto E di sotto E di sotto Uffa ma stavo vincendo Allora ti do l'ultima possibilità Se riesci a vincere la prossima partita Sei la campionessa di StumbleGuys Ok Anche perché si è buttato lui da solo Questo personaggio è brutto Certo sì È sicuramente colpa del mio personaggio Chissà perché Ovvio Ovvio Un altro livello nuovo eh Oh mio dio Vai vai avanti Corri Non va Hai sbagliato tasto Oh sei ultima Ninna Sei partita No è impossibile Vai che sta recuperando Io vinco sempre Ma come fai a recuperare così Ma perché io Ti sei sbagliata Sono l'eroina Ok Di questo gioco Eh sono molto avanti gli avversari eh Sei quasi entrata nel gruppo principale però Eh no mi dispiace Hai perso Mamma mia Ma forse qui qualcuno Non è forte come si credeva eh Ah sì parli tu Io in realtà sono partita dopo Perché ero triste di aver perso il livello Prima non per colpa mia Quindi io ho vinto praticamente tre volte Tu Zero Adesso ti faccio vedere io Oh no Matti Ok Matti sei ritardo Sei ritardo Ci siamo ci siamo Non ti preoccupare Questo è un gioco di resistenza Sì Io resisterò Sì Te lo dimostrerò Ho capito anche una cosa Vediamo se perdi come me Dal tuo livello ho capito che non devi toccare neanche i laser verdi a destra e a sinistra Esatto bravo Quindi riuscirò Quindi ti ho aiutato praticamente Non è giusto Oh ma che è questo coso? Eh questo è una costruzione parkouristica Ok Vabbè io avevo già perso Pure tu Addio Matti È finita Hai perso Non è vero Dai Ma non ha senso Questa cosa non è possibile No vabbè sei stato fortunatissimo Matti Hai visto Non è giusto Bisogna Perché mi siedo? Perché mi si siede da solo? Eh perché stanco il personaggio sicuramente Mi si è staccato il personaggio Bisogna crederci fino alla fine Ninna Sì In questo gioco bisogna crederci fino alla fine È il gioco più buggato che io abbia mai visto Però ok va bene Guarda ma è possibile che non abbia perso ancora nessuno Dai Eh beh ci credo Tu stavi per perdere Sei di nuovo lì Guarda questi livelli sono facilissimi Ma così non perderà mai nessuno Ecco il mio era molto più difficile Diciamo la verità Hai ragione hai ragione Devo resistere Ti dimostrerò che riuscirò a fare anche io una bella vittoria Guarda quanto sono semplici Ah ma allora vedi che si siedono tutti? Ma perché se ti siedi passa attraverso Ecco qua Ciao sono matti Che carino Wow Ok Adesso No siediti siediti No non mi posso siedere Si siede da solo Ok scavalca Oh 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 Siamo rimasti in In tre? Ah ok in tre in tre in tre No vabbè com'è possibile? Adesso qui basta rimanere fermo Mi si siede da solo il personaggio Va bene Perfetto Mamma mia siamo rimasti in tre Due maschi e una femmina Attento eh Ok non preoccupare Tutto sotto Ma com'è possibile? Ma no 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 Mi hai tanto rischiato di cadere dalla sedia Mi no ma non hai visto che c'era la schiena all'abbassato? No mi ero dimenticata Ok ci sono Ma come ho fatto a perdere? Dai Va bene Ok ho capito Mi arrendo perso Sconfittadores Sconfittadores Cliccate sui videores Che sono comparsi in questo momento E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao